Che l'aria a Cremona sia irrespirabile è ormai noto, ma ora il dato è nuovamente certificato e messo nero su bianco da Legambiente nell'ultimo rapporto sull'ecosistema urbano pubblicato dal Sole 24 Ore. Proprio a causa dell'elevata concentrazione di PM10, il cui limite di legge nel 2017 è stato sforato per 105 volte, Cremona si ritrova nella posizione numero 100 della classifica per qualità dell'aria su 104 capoluoghi italiani. Non solo PM10, ma anche ozono e biossidi di azoto concorrono a rendere ciò che respiriamo velenoso e ci posizionano nella 86esima e 84esima posizione. Una situazione che si riflette e pesa enormemente a livello generale. In base ai 17 parametri raggruppati in 5 macro aree, area, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente e energia, Legambiente colloca Cremona nella classifica finale al 22esimo posto, arretrandoci rispetto all'anno precedente, di 11 caselle. A tenerci a galla sono i rifiuti. Siamo stabili all'undicesima posizione, guadagnata grazie alla raccolta differenziata, sebbene la qualità dei rifiuti prodotti non sia eccellente, visto che si è passati dalla 47esima alla 58esima posizione. Cremona perde una posizione anche per quanto riguardi chilometri di piste ciclabili, nonostante gli sforzi dell'amministrazione nel completare il biciplan e l'avvio di importanti opere pubbliche in tale senso. Sulla pagella di Legambiente il sindaco Galimberti però dà una lettura diversa. Siamo calati, conferma, ma siamo terzi in Lombardia nelle prime 25 città italiane, migliorando comunque in questi anni la posizione del 2014 quando eravamo trentesimi.